si andrà verso l'indipendenza, non sono soltanto i 3.000 anni di storia di indipendenza o gli 11 secoli di storia della Serenissima che sono stati un periodo glorioso a cui purtroppo noi, me compreso ai tempi delle scuole medie e alimentari era tutto racchiuso in tre righe, le repubbliche marinare terribili e oppressive la vergogna della storiografia nazionale che poi veniva purtroppo ripassata, riversata sulle menti dei giovani, i quali si domandavano ma io sono genovese quindi sono stato Genova è stata oppressa dai doji, dal maggior consiglio, dal minor consiglio, tanto quanto Venezia per fortuna che è arrivato lo Stato italiano a liberarla, questo era quanto veniva vergognosamente insegnato e tuttora viene insegnato e questo è il primo motivo che riguarda in particolare il vento dal punto di vista del pensiero liberale classico in cui mi riconosco è la necessità di creare un piccolo Stato libero, indipendente, felice, ricco, prospero che il più possibile si allontani da tutti i mali che lo Stato ha fatto internamente ai propri cittadini sottoponendo le tassazioni che è sempre crescente a partire dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi, facendoli morire in guerre inutili stragi come la prima guerra mondiale facendo morire 600.000 italiani per poi credere ad averne liberato 400.000 che stavano benissimo dove stavano, tant'è vero che sono sorti i movimenti indipendentistici proprio nelle zone per cui per nulla sono morti 600.000 giovani, bambini, ragazzini, 15 anni lo Stato non osa più naturalmente chiederci la vita, ci chiede la proprietà e la rinuncia alla nostra felicità perché parlo di vita, proprietà e felicità? perché sono i tre fondamenti della dichiarazione di indipendenza di Jefferson che liberò o iniziò il processo di liberazione delle 13 colonie da Giorgio III dalla dinastia degli Annover, comunque dalla corona britannica questo perché lo dico? anche perché abbiamo ricordato oggi che proprio in questi giorni, in quest'anno si è celebrato un grande trionfo in Scozia per lo Scottish National Party che ha portato a una maggioranza relativa ma ha portato anche a una certezza quasi che nel 2010 quando si terrà il referendum la maggioranza degli scozzesi dirà sì al fine del Treaty of Union che nel 1607 con vergognosi interessi londinesi ha soggettato la Scozia agli interessi della Gran Bretagna mantenendola poi in una posizione marginale per tutto il corso della storia scozzese e sono molto felice che intellettuale, tra virgolette poi non si sa più chi sia veramente un intellettuale forse per fortuna non esistono più questi mostri degli intellettuali organici, disorganici questi servi dei partiti e così via ma colleghi miei in Scozia hanno aderito molto felicemente e con grande entusiasmo allo Scottish National Party e hanno scritto libri in cui hanno dimostrato tutti gli sporchi interessi che c'erano dietro il Treaty of Union del 1707 a 300 anni di distanza quindi credo che ci siano tutte le premesse perché il Veneto riconquisti la sua indipendenza ci sono le premesse economiche ci sono le premesse storiche ci sono le premesse ideologiche e ci sono stati c'è anche una premessa storica immediata ora io vorrei ricordare qui una persona che ho conosciuto da poco che si chiama Franco Rocchetta che credo che abbia dato moltissimo se possibile un applauso per Franco quello che nasce qui non nasce su un terreno che non sia già stato parzialmente arato da pionieri dell'indipendenza occorre tornare su quei passi vedere quali errori sono stati fatti e con grande serenità affrontare questo percorso con grande serenità in questo senso perché lo dico perché la sprezza o la violenza verbale e così via come io ogni tanto scrivo ad esempio di alcuni esponenti della Lega Nord e così via dimostrano semplicemente che ormai essendo di entrati parte gran parte di loro all'interno del sistema devono in qualche modo giustificare la propria esistenza e quindi attaccano vuoi gli omosessuali vuoi rom così e perché lo fanno? perché non possono più attaccare lo stato di cui sono diventati parte quindi non possono portare fuori il maialino a Padova non possono prendere una bella maschera di maiale fatta da qualche artigiano veneziano e mettere la sua testa di Garibaldi come si dovrebbe fare anziché celebrare questo mito e io mi ricordo già da ragazzo quando è nata la Lega Nord ragazzo semiragazzo all'inizio degli anni 80 mi diceva Roma ladrone ma quando si accusa qualcuno di essere ladrone si accusa anche se stessi di essere stupidi perché se mi permetto quindi se Roma ci ruba qualcosa che indubitabilmente è così obiettivamente è perché noi ce lo lasciamo fare quindi io credo che sia molto importante riprendere il discorso dell'indipendenza dell'evento con grande serenità e come ha dimostrato il professor Pizzati che purtroppo non ha avuto il piacere e l'onore di conoscere in questa bellissima presentazione macroeconomica occorrerà anche eventualmente essere d'aiuto all'Italia proprio perché la prosperità di un paese dipende anche da una legge economica fondamentale dalla prosperità del paese vicino e questo lo dimostrano i casi immensi come il caso degli Stati Uniti d'America nel suo rapporto col Messico che a un certo punto quando il Messico aveva intrapreso politiche liberali era un grande piacere anche per gli Stati Uniti che secondo l'altro non si trovavano decine di milioni di messicani sul Rio Grande che volevano attraversarlo quindi questa è una legge fondamentale della storia e una legge fondamentale dell'economia questo detto credo che ci siano ci siano tutte le premesse perché un giorno che il Veneto abbia raggiunto l'indipendenza con un effetto domino in tutto il resto dello Stato che si chiama Italia delle regioni anche quelle meno connotate storicamente rispetto al Veneto